Bella a tutti signori e benvenuti in questo nuovo video, sono Maullo941 e oggi siamo su un gioco gratuito che trovate su internet che si chiama Bullet Force signori Sembra un gioco, è uno sparatutto diciamo alla base, ora vedremo, ci giocheremo assieme sperando di non farci ammazzare subito praticamente De tutti signori, prima di partire dal video vi ricordo di iscrivervi al canale, vi ringrazio per like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto che date ogni volta Vi ricordo di iscrivervi sui social, mi trovate come Maullo941 sia su Instagram che su Facebook, tramite social infatti vi aggiorno su quando escono i video e su quando siamo in live Sia su questa piattaforma che su quella viola, di solito mi trovate qui su YouTube intorno alle 21, 21 e un quarto per giocare assieme Altra cosa non meno importante, guardate i link in descrizione perché trovate le azioni che potete fare sul mio canale E i link dei miei social e anche i link degli abbonati al mio canale Quindi se volete fare un salto anche da loro e vedere i loro contenuti per me fa solo piacere Detto così signori, non perdiamo molto tempo e partiamo con il video Allora, noi possiamo scegliere fra Deadmatch, Free for All, Conquistare, Vip e Gun Game Io direi di partire con un semplice Deadmatch, signori Ok signori, la mappa è a Moon Sement Che non so veramente cosa sia, che mappa sia Fermi tutti Allora, calma il sangue e freddo Dobbiamo scegliere le tre armi O Alpha, Bravo o Charlie Non mi sembra che cambi qualcosa Non mi sembra assolutamente che cambi qualcosa Scegliamo Bravo, così Tanto Alpha, Alpha signori, Alpha mi sa proprio di guerra allo stato puro Ci sono le due squadre, la blu e la rossa La partita dura 11 minuti, già è partita Prima che arriva a 150, va bene Allora, siamo calmi, fermi tutti Fatemi prendere un attimo confidenza con il gioco Ok, perché sto vomitando male? No, no, così è ancora peggio Dobbiamo muoverci molto lentamente, signori Così, ok Così, così camminiamo Esco per uscita dalla maternità del schermo intero Non mi interessa Se non sbaglio, così spariamo Ok Con F facciamo qualcosa Con R ricarichiamo Ok Con E No Con Q Non facciamo nulla Con C'è un tasto per Ah, ok Mi sono abbassato, non so come Ah, con C, ok Invece con questo miriamo più da preciso Ok Miriamo più da preciso, non si può sentire, signori Ok, dovremmo cercare Gli altri da uccidere Chi cazzo Ma vaffan Mi ha fatto cagare in mano Questo quest, non so chi Porca miseria Era il mio compagno E lui Seguiamolo, segnamolo, signori Seguiamolo Non so come si corre Però va bene Perché si sta muovendo come se l'avessero azzoppato male Dai, 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 zio Ci facciamo una partita Ma perché devo ammazzare le persone No, signori Questa è la mia adolescenza Quante ore ci ho passato su queste macchinette Voi non lo potete immaginare Queste non so, quelle del poker Dove stai? Dove stai? Fatti vedere Fatti vedere L'ho ucciso? L'ho ucciso? L'ho scappato? Dov'è? Ma dov'è finito? Si è volatilizzato, signori Certo che sto vomitando C'è troppo movimento Troppo libertà di movimento Calma Il salone Il salone Il salone C'è sicuramente qualcuno che mi aspetta Sicuro Sicuro Invece no Invece no Andiamoci a prendere una Salve Vorrei una bibita Dove metti? Dove devo rompere per avere una Coca-Cola? Voglio una Coca-Cola Vabbè Niente Questi distributori non funzionano Salve Che sta a fare? Come cazzo è? Ciao amico Ciao amico Come balli? Ti seguo No no Ti stai facendo ammazzare male zio Dai 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 Dov'è? L'ho ucciso? Ti ho vendicato fratello No È morto No No Sei risorto subito Fratello sappi che ti ho vendicato Sappi Sappi che ti ho vendicato Occhio 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 Bravo così Ma questo Siamo infallibili signori Abbiamo fatti fuori 2 su 2 Aia 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 Mi hanno ammazzato Ma dai Ma dove? Ma quello doveva difendermi Mi ha ammazzato male Va bene Ritorniamo in pista Ritorniamo in pista Ritorniamo in pista Perché ci sono sempre questo Ritorniamo in pista signori Ritorniamo sul campo di battaglia Anche domenica scorsa Quando stavo facendo il gioco degli aerei Ritorniamo in pista Ma stiamo volando Non stavamo Non eravamo in nessuna pista Però va bene Sento gli spari E sento uno che ha appena vomitato Va bene Calma 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 Dai 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 L'avevo ammazzato Scusate Ma quanta vita hanno? Ma che so Invincibili Che cos'è? Che Che Quanta vita hanno? Porca miseria Daglie così Siamo 13 a 9 per loro Signori Ma loro non muoiono Cioè Sono immortali Dai 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 No vabbè Dai Ma che Ma che Dai Mi ha appena sfiorato E mi ha ammazzato Dai Non si fa così Signori Mi ha appena sfiorato Mi ha toccato il suo proiettere E sono morto subito Ma non si fa così Dovremmo essere più stolti Signori E invece Non lo siamo Non lo siamo No Mi ha ammazzato lui No vabbè Dai ma non ci credo Ma non ci credo Dai Questo video si può montare Con tutte le mie morti Praticamente Più che Mancano 7 minuti Alla fine della partita Dai così Dai così Quanto meno uno L'abbiamo fatto fuori Signori Si è venuto lui A ammazzare davanti a noi Ecco Mi ha fatto spawnare Dall'altra parte Questa volta che dalla piscina Poteva ammazzarne uno easy No mi ha fatto spawnare Dall'altra parte Mannaggia lui Oh oh Ci sono degli spari là sopra Ci sono degli spari là sopra Aspettate signori Che vi venga ad aiutare Vi venga ad aiutare C'è qualcuno C'è qualcuno Calma 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 C'è qualcuno No Ok Qui in cucina C'è qualcuno Che si sta cucinando un pollo No Non c'è nessuno Di qui torniamo indietro Siamo nel salone Ok Ok Continuiamo a muoverci Continuiamo a muoverci Ma va Ma perché mi devi far saltare in aria Questo qua Per non dire altre parole Più sconce Perché mi devi far saltare in aria Siamo tornati nel salone Dai 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 Ok Oh qua c'era tutta la mia squadra Ma io perché camminavo da solo Dai fammi camminare con la mia squadra Ecco ammazzano a me Eravamo in otto Eravamo in otto Eravamo in otto E ammazzano a me Ma perché Cambiamo armi Dammi le Charlie Forse mi portano più sfortuna Più fortuna le Charlie Che l'è bravo Dai 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 Torniamo dalla mia squadra Torniamo dalla mia squadra Sento gli spari vicini Signori Sento gli spari vicini E sto vomitando Ho sbagliato Che ha tirato una bomba Dai 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 Lo piglio Lo piglio Lo piglio Le spalle È volato malissimo Signori È volato sul tetto Ai 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 Ma porca miseria Era uno alle spalle Che mi stava a sparare Mannaggia a lui Mi ha fatto saltare in aria Calma 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 Stiamo 20 a 27 Signori Stanno vincendo loro male Però Dobbiamo continuare a difenderci Dai dai Possiamo crederci Crediamoci Signore Me ne è passato uno davanti Me ne è passato uno davanti Vediamo se riusciamo A colpire le spalle Vediamo se ci riusciamo No Mi è sparito Dove se ne è andato il tizio Da c'è il mio compagno Quindi se qua c'è il mio compagno Non riesco a uscire da una porta Signori Non riesco a uscire da una porta C'ho le porte che No Mamma mia che sei morto male Zio Ma sei morto malissimo Se non è morto per la facciata Che ha dato Ma porca Da dove è uscito Io stavo analizzando il cadavere Ero Era un dottore Che analizzava il cadavere E questo Dai dai zio Dai dai zio Dai 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 Io non so neanche come si corre Signori Come si corre Ah con questo si salta Ah potremmo saltare Dai facciamo la modalità ballerina volante Dai 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 Saltando non ci frega nessuno Signori saltando li freghiamo tutti Dai dai salta 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 La tattica coniglio La tattica coniglio non funziona La tattica coniglio non funziona Signori Allora Se sparo non riesco a saltare La tattica coniglio non funziona Va bene Va bene Va bene Torniamo in campo Quanto stiamo? 36 a 25 Mamma mia Ho dei compagni Proprio di marmellata Io sto facendo Il devasto più totale Questo Ho dei compagni di marmellata Proprio Va bene Si è nascosto di tutta la porta Signori Si è nascosto di tutta la porta Dai dai Pilo Da dove mi ha sparato? Ma che cosa sta dicendo? Come ha fatto a colpirmi da lì? No Ah vabbè dai No 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 Questo video sarà tutto Sono morto 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 Che è successo? Si è buggato tutto? Ok va bene Stai calmo Non ti emozionare Non ti emozionare Sei morto solamente 8000 volte Ma non ti emozionare Dai Ai 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 Ah vabbè Non è fattibile Signori Il primo che arriva a 150 Noi siamo ancora a 27 Quelli a 42 Dai ma porca miseria Oh qualche kill sono riuscito a farla però Andiamo di qua Andiamo di qua Andiamo di qua dove c'è questa porta aperta Dai Dai Andiamo di qua Dai dai avviciniamoci 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 Non posso uscitare da solo No che mi viene incontro E gli posso sparare direttamente No devo per forza Oh siamo tornati in cucina Siamo tornati in cucina Dai c'è il mio compagno Che sta andando anche lui Nella sala giochi Dai dai Rimaniamo vicino al compagno Rimaniamo vicino al compagno Io so io So io Che cosa mi guardi Così sono io Dov'è? Mi è sparito Ok no È tornato No Io ringrazio Kebab Per avermi considerato questo gioco Da sclero totale Però va bene Va bene Va bene Manca un minuto e ventito Alla fine della partita Riesco Uh aspetta aspetta Perché mi aveva segnato La presenza di un nemico Perché mi aveva segnato La presenza di un nemico Perché c'è il nemico Ti ammazzo 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 Fammi girare attorno alla cucina E ti ammazzo Fammi girare attorno alla cucina E ti ammazzo No dai L'avevo ammazzato Ma perché Loro hanno più vita di me Ma perché Ma perché Hanno più vita di me Ma perché Ma perché ma porca erano due contro uno ma li avevo presi bene ahi 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 monnoggio mi ha sparato da lì quindi deve per forza comparirmi di qui se mi compare dalle spalle porca miseria signori quantomeno non si può vantare di una kill che ha fatto che subito ti ammazzano male ma dai ma non ci credo non è possibile una kill l'abbiamo fatta io non so quante siamo arrivati a 28 su loro ne hanno 50 mancano gli ultimi 20 minuti va bene io mi faccio ormai un ultimo giro per la città salve bello bello c'è qualcuno che si può far ammazzare così all'ultimo negli ultimi secondi così per regalarmi una kill gratis 5 4 3 2 1 è finita abbiamo perso signori abbiamo letteralmente perso io qual'ero di tutti questi? boh quale guest star quale guest ero? boh boh vabbè comunque signori mi ha fatto letteralmente cacare detto questo io vi ringrazio per aver guardato questo video vi ringrazio no continuiamo come guest ci piace questo soprannome la guest star signori io vi ringrazio per aver guardato questo video vi ringrazio per i like per i commenti per i suggerimenti per il supporto noi ci vediamo sempre qui sul canale per un prossimo contenuto bella raga ciao 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 ciao